Molto movimento, molta forza e dinamismo. D'inverno giochiamo in palestra. La palla, la rete, l'avversario. Facciamo vari esercizi di riscaldamento. Per me la squadra è molto importante. Quando faccio sport voglio stare anche bene con le persone. Ogni volta che la palla tocca terra è puto. Si può fare muro e bisogna saltare con le braccia tese in alto. Se qui avete il muro a due, l'uno e il sei si spostano in copertura. Divertimento, passione e spirito di squadra. Il beach volley e la palla a volo tradizionali sono molto diversi. Bisogna essere abbastanza alti. Ci vuole un po' di volontà per non perdere lo scambio. In allenamento ci vuole molta forza di volontà. È una disciplina difficile. Sono molto soddisfatta.